In occasione dell'8 marzo, e forse non è proprio un caso, un incontro importante per parlare di violenza, ma anche e soprattutto di educazione sessuale, di rischi di internet, insomma in questa ricorrenza così importante la parola viene data soprattutto ai giovani, un momento di formazione e di informazione, sono diverse ovviamente le professioniste che stanno tenendo il loro convegno, ha partecipato naturalmente anche il prefetto della provincia di Biella, la dottoressa Tancredi, l'assessore a politiche giovanili e di istruzione Gabriella Bessone, ma soprattutto al centro i giovani. Allora sentiamo alcuni dei loro commenti. Io vorrei dire che mi ripeto molto fortunata, anche se non sono un'allieva di seconda come tutti gli altri, a prendere parte a questo incontro, perché io col Covid non ho avuto occasione di fare appunto educazione sessuale durante le superiori, l'ho fatto alle medie, però noto che comunque i concetti trattati sono diciamo abbastanza differenti, perché comunque penso che si sappia che un allievo di seconda alcune cose le abbia già acquisite in sé, rispetto magari a un alunno delle medie, quindi volevo ringraziare perché mi è stato modo di partecipare appunto a questo intervento. E devo dire, come ha detto il mio compagno, che è stato un intervento, cioè secondo me finora è un intervento molto ben fatto, l'unica cosa che secondo me manca forse è la presenza di un uomo, diciamo, perché sono tutte donne che spiegano molto bene, però vederlo anche comunque da un punto di vista maschile potrebbe aiutare di più i ragazzi. Questa mattinata prevede dei laboratori e delle esposizioni di tematiche legate alla sessualità, ma non solo, anche all'affettività e ai diversi modi in cui essa si può esprimere tra i giovani, in particolare oggi nell'aulamagna di città studi sono presenti le seconde del liceo classico, artistico e linguistico. Manca ancora una visione più estesa della sessualità, mi avviso, perché è ancora troppo eteronormata, si parla ancora troppo di relazione sessuale tra uomo e donna senza considerare relazioni omosessuali, sia di tipo femminile che di tipo maschile, l'esistenza del genere neutro, delle persone trans e così via per le relative esigenze sessuali. La violenza sulle donne non è l'unico problema che al momento vive l'Italia e parte del mondo. Molte persone sono discriminate per il loro orientamento sessuale o per il loro genere, che siano essi omosessuali o persone trans. Grazie. Grazie. Grazie.